Sì, principalmente l'agenzia si occupa di portare alla luce delle situazioni nel mondo che sono particolarmente difficili e sono un po' la sfida del futuro, la sfida in termini ambientali soprattutto per quanto riguarda il preservare il pianeta fondamentalmente, quindi può essere in questo caso con il discorso del petrolio e delle risorse naturali che sono un tema molto importante. Sì, con il cambiamento climatico e con questo problema abbiamo visto che è diventato una varietà di diverse aree e quindi siamo capiti a prenderli questi problemi e le ridurre visualmente per le persone per capire cosa sta succedendo nella nostra vita. Diciamo che il vantaggio di avere più fotografi è che questi si sono dedicati a diverse aree del mondo per far vedere diversi problemi che però tutti si uniscono nel grosso issue appunto che è il cambiamento climatico. Allora, siamo andati a un mondo che è più fulgato? Allora, siamo andati a un mondo che è più fulgato? Allora, come la popolazione è crescita e abbiamo più e più vedi, credo che sia un mondo più difficile world, and at the same time I think we're going to come up with solutions to find ways out of these problems, hopefully. Thank you.